Prevede una serie di attività di vulgativi e agevolazioni per i soci Avis ma ha l'obiettivo di rimarcare il principio di condivisione su cui è fondata l'Associazione Volontari dei Donatori di Sangue. È la convenzione firmata in municipio a Ferrara tra la Fondazione Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah e l'Avis Provinciale con il patrocinio del Comune di Ferrara e l'Avis Nazionale. Lei ha detto che questa non è una convenzione qualsiasi? Assolutamente no, è una convenzione molto particolare che vuole mettere insieme i valori della solidarietà del convivere in maniera condivisa scambiandosi rapporti, scambiandosi modi di rispetto e di tolleranza e che guarda a un passaggio fondamentale ed importante della storia una storia carica di angoscia che ha colpito il Novecento nel cuore dell'Europa che non vogliamo si ripeta oggi e che deve essere a monito perché solo conoscendo il passato possiamo guardare con più serenità al futuro. Quindi questa convenzione che si basa su una serie di crimini che hanno segnato la vicenda di milioni di uomini credo debba essere il maggior monito che possiamo avere e che dobbiamo ricordare nelle future generazioni. Il sangue, ha detto lei, è simbolo delle battaglie e rappresenta anche il livello di civiltà umana. Esattamente, sì, richiamavo un passaggio del Levitico che si legge presso tutte le sinagoge tutti gli anni che è non stare inerte di fronte al sangue di tuo fratello e per fratello si intende qualsiasi prossimo che vuol dire non stare inerte, vuol dire sii pronto ad aiutarlo e questa espressione della Torah ebraica diventa un imperativo all'interno delle comunità ebraiche cioè quella della solidarietà rivolta certamente ai fratelli ebrei ma ai fratelli in senso lato quindi rispetto a tutto il prossimo e quindi viene richiamata l'esigenza a non essere inerte di fronte all'esigenza altrui proprio attraverso il sangue. Credo che la firma di questa convenzione che vuole rappresentare e mette a principio il sangue come elemento di solidarietà attraverso la donazione sia conforme e in armonia al dettato del Pentateuco che poi è il Libro Sacro per gli Ebrei. Questa convenzione è un'importanza fondamentale per noi perché non è la solita convenzione che stringiamo con gruppi di persone o associativi questa è una convenzione che stringiamo con il MEIS che sostanzialmente rappresenta un pezzo della storia umana quello che noi vogliamo è contribuire a fare in modo che le persone siano persone cittadini, veri che ricordano il passato e dal passato cercano di non ripetere gli stessi errori ecco, questo è quello che noi vogliamo sentimento di solidarietà in mezzo alla gente e costruire dei cittadini che siano veramente cittadini in mezzo alla collettività. Il sangue è anonimo è anonimo, spontaneo ed è un atto sia individuale sia collettivo perché donando noi costruiamo una società coesa, solidale, inclusiva in cui il valore dell'uguaglianza è un valore vissuto per il donatore di sangue le comunità, le uniche comunità che esistono sono la B, lo Zero, l'A e il B non ce ne sono altre e questa è la comunità che noi costruiamo con il nostro dono in cui c'è una solidarietà individuale in cui chi può dà una mano a chi ha bisogno del sangue per vivere che diventa un atto sociale perché la pratica della solidarietà rafforzi il senso di comunità delle nostre città. Assessore, questa sala importante ha ospitato questa firma di convenzione davvero con un significato profondo Una lodevole iniziativa è quella di oggi che ha visto coinvolte due realtà importanti della nostra città Avis da una parte e l'EMEIS dall'altra Entrambe le realtà rappresentate dai massimi esponenti e quindi per il comune di Ferrara per la nostra amministrazione è stato un vero onore mettere a disposizione la sala degli arazzi ma soprattutto recepire al massimo quello che è il volore di questa importante convenzione sottoscritta. Questa è una convenzione unica ne sono già state siglate altre di questo tipo con la comunità ebraica e le chiedo anche, lei ha sottolineato che questa convenzione stabilisce il fatto che il sangue si dona e non si versa Questa è la prima che firmiamo con la comunità ebraica la firmiamo a Ferrara dove c'è il museo della Shoah che è quel luogo che ricorda in modo determinante questo passaggio che dicevamo prima e che vuole fare della cultura e del futuro il miglior modo per poter convivere sul concetto che diceva lei perché noi tutti siamo legati al sangue al concetto del sangue soprattutto nelle nostre comunità che partono comunque dall'ebraismo e che si sviluppano nella cultura cattolica del sangue di Cristo che è in fondo il gesto massimo di Cristo per la nostra salvezza e quindi noi che abbiamo questa possibilità anche laica di condividere con gli altri se vogliamo condividere parte di noi stessi lo possiamo fare assolutamente utilizzando il sangue che è uno strumento soprattutto in quest'epoca di sviluppo sanitario tecnologico e della scienza per ridare, proprio ridare nel vero senso la parola la vita a tanti altri nostri fratelli quindi questo è un gesto che ancora di più sottolinea quello che a noi piace che è il metterci a disposizione e il condividere con gesti di solidarietà che non guardano in faccia a nessuno non discriminano e non chiedono a nessuno né la cittadinanza né l'appartenenza etnica né il passaporto ma che solo per il fatto di avere di fronte un individuo che con noi condivide il passaggio sulla terra siamo disponibili ad aiutarla dagli una mano Lei ha sottolineato che questa convenzione ha un significato profondo a partire proprio anche dalla sede dell'Avis Sì esattamente grazie proprio al presidente provinciale il presidente anche qui di Ferrara dell'Avis siamo andati a visitare la loro sede e mi sono reso conto che è appunto la sede la dimora di Pico Cavalieri un'importantissima famiglia ebraica ferrarese che ha voluto lasciare alla città la sede della sua dimora come spazio importante per alcune associazioni oggi fra le associazioni che hanno sede presso il palazzo di Pico Cavalieri della famiglia Cavalieri c'è appunto l'Avis di Ferrara e questo qua è un legame stretto che unisce questa associazione Avis a Ferrara e il retaggio culturale storico dell'ebraismo ferrarese che si dipana in tantissimi secoli qui nella città ferrarese Da dove nasce questa idea? Beh, prevede quando abbiamo fatto il consiglio nel programma di mandato dell'Avis comunale abbiamo inserito anche questi discorsi di convenzione nel mondo della cultura, dello sport questo della cultura è stata veramente quando abbiamo discusso una cosa che tutti hanno recepito anche perché a Ferrara avendo il MEIS avendo questa bellissima struttura è vero è super ricordo dell'ebraismo della SOA abbiamo detto l'Avis non fa solamente cultura della donazione del sangue ma l'Avis è cultura anche in senso generale perché dovremmo dare ai nostri donatori non solo ferraresi perché vi ricordo nel 68 allora a Ferrara sono venuti 5.000 avisini da tutta Italia vogliamo ripetere anche questo aspetto qua di far venire l'Avis a visitare il MEIS cioè gli avisini hanno gli sconti per andare a visitare il MEIS e poi da questo nasce sicuramente una collaborazione con il MEIS di conoscenza sul territorio anche che noi vorremmo proprio portare sul territorio questi aspetti qua anche perché l'Avis diffonde questo discorso anche di solidarietà e di amicizia allora come dice il direttore Spagnoletto che è sicuramente subito recepito questo bellissimo messaggio ha detto fare una convenzione con l'Avis significa soprattutto avere un domani un senso di solidarietà e soprattutto di conoscenza e soprattutto la cultura anche che unisce queste due associazioni allora su questo progetto io credo che Ferrara l'Avis investerebbe tanto e soprattutto dobbiamo dire sarà un contributo forte alla nostra città in termini solamente direi anche di conoscenza e soprattutto anche dal punto di vista economico che se vengono di avvicinare tutta Italia a visitare il MEIS dovete avere anche un discorso economico che l'Avis è una parte attiva di questa città Entriamo proprio nel dettaglio di questa convenzione che cosa sancisce? Ma una convenzione generale che sancisce un'unità di intenti è la volontà di creare e progettare delle attività degli eventi ed anche un percorso culturale che lega insieme da una parte il MEIS che ha per missione proprio far conoscere la biminelaria storia dell'ebraismo in generale e dell'ebraismo anche ferrarese e dall'altra il nobilissimo intento e missione che si prefigge l'Avis ecco credo che partendo da questi due punti importanti e pilastri per ciascuna delle due organizzazioni c'è spazio enorme per creare condivisione di argomenti di temi su cui applicare il nostro impegno e la nostra energia Tecnicamente come funziona? Funziona semplicemente così un donatore Avis che voglia eventualmente visitare il museo e ripercorrere la storia si presenta con il proprio tesserino dice che il donatore Avis ha un piccolo sconto nelle attività che svolge ma soprattutto entra nella storia comincia a capire cosa è successo in passato e comincia a riflettere su come fare perché questa storia non si ripeta questo naturalmente dall'altra parte è riuscire a fidelizzare più persone anche in ambiti culturali perché si avvicinino alla donazione del sangue sì questo sì ma soprattutto perché cultura e solidarietà vanno di pari passo nel senso che un donatore Avis è un donatore perché è culturalmente in grado di leggere la storia e di leggere il fatto che ci sono persone che hanno bisogno di lui e del proprio dono del sangue e di leggere il fatto Grazie a tutti